La Wildem ha raggiunto un altro piccolo traguardo, la costituzione di un'impresa sociale, figlia della stessa, della Wildem, che ha come soci fondatore persone con disabilità. Naturalmente al timone ci sarà sempre la parola inclusione. Queste nuove progettualità vogliono dare ancora di più opportunità alle persone con disabilità di sentirsi protagonisti e non semplici spettatori. Sappiamo benissimo che la Wildem ha operato e continua ad operare in realtà molto fragili, realtà che sappiamo che ancora c'è tanto da fare e tanto da costruire. Saremo sicuramente protagonisti di portare avanti nuove opportunità, nuove possibilità di inserimento di lavoro per le persone con disabilità. Inoltre ci auguriamo e speriamo che sia uno stimolo in questo momento di fermo a causa della pandemia, del Covid. Quindi ci arricchisce e ci dà la voglia di ricominciare, di ricominciare con le vecchie attività, ma soprattutto con le nuove attività. E soprattutto potendo pensare al futuro e cercando di realizzare ancora qualche altro piccolo sogno che abbiamo nel cassetto. Elia Empatia, Lavoro, Inclusione e Accessibilità è un traguardo raggiunto dalla Wildem di sezione di Mazzara del Vallo, grazie alle sue iniziative che negli anni passati ha posto in essere. È riuscita a mettere in rete e a far coinvolgere e coinvergere persone con disabilità e normodotati attraverso una progettualità volta all'accessibilità e alla realizzazione di interventi progettuali e di impresa che possano creare occupazione ed integrazione ed inclusione. Questo è uno dei risultati che ci onoriamo di aver sviluppato attraverso anche un progetto che in questo momento è in corso di realizzazione che si chiama Orchidea, che riguarda l'agricoltura, ma con Elia volgeremo al settore turistico. Mare senza bardiere adesso avrà una struttura stabile che ci permetterà di poter far lavorare i nostri ragazzi all'interno di un circuito turistico già creato e progettato e che a breve vedrà la luce nel territorio di Tre Fontane. L'impresa sociale Elia, cronico e fortemente voluto per l'importanza che abbiamo dato alle cinque parole empatia, lavoro, inclusione e accessibilità, nasce davvero con l'intento di dare a questi ragazzi con disabilità un'immagine nuova che forse ad oggi si fa ancora fatica ad associare a loro, quella di non renderli solamente fruitori di un servizio ma protagonisti di un servizio che danno all'interno del territorio e quindi ci piace immaginarli impegnati in maniera fattiva all'interno di un contesto lavorativo dove la gente arriva e li trova davvero protagonisti di un servizio che essi possono dare e quindi quale più bella immagine quella di immaginarsi un ragazzo con disabilità che non più è un'attesa di qualcosa che può ricevere ma di qualcosa che può dare. Sono felice di questa impresa perché mi dà modo di fare qualcosa, è un lavoro che mi piace per dare un servizio alla città.